Nick Stick Valentovac Eskrima è uno stile di Eskrima inventato dal Grand Master Nick Elizaro 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3 Punch, punch and punch and go here and punch punch sollevo in questo caso rimango con la gamba avanzata sinistra sollevo la gamba destra 5, 2, 3 6, 8, 8, 8 giù 5 5 3 quando vado in redi la mano sinistra si estende un po' e porto il bastone sopra la sborda adesso da open block open, close, middle open, close, open, close open, close, middle 1, 2, 3, 4 adesso l'ho fasciato cadere un bastone è un semplice bastone un semplice stecco ma quando lo prendete e lo afferrate in quella maniera ridi metà parte di voi ok 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 ok